1727 w r l di star nome d'arte di algero corretini ribattezzato fratelli torna a far parlare di sé il rapper e influencer romano è noto sul web per via di alcuni video diventati virali che ne documentano le bravate uno di questi il più famoso lo ritraeva mentre si schiantava contro un muretto a 110 chilometri all'ora a bordo di un'auto sportiva ho sfonnato tutto fratelli ho preso il muro te dico fratelli ho preso il muro fratelli disse a margine della sua corsa sfrenata algero corretini foto instagram fratelli ha concesso il bis nelle scorse ore l'influencer che su instagram vanta un milione di follower ha concesso il bis schiantandosi con una jaguar bianca presa a noleggio ho preso il muro fratelli parte 2 dove vanna così fratelli ha scritto sui social a corredo di alcuni scatti che mostrano l'auto di lusso distrutta la jaguar di algero correttini distrutta dopo lo schianto foto instagram guidatore passeggero sono rimasti illesi la jaguar guidata da algero correttini si è schiantata contro un muretto è finita violentemente contro il guardrail perdendo una ruota per poi terminare la sua corsa pochi metri dopo entrambi gli airbag sono scoppiati a bordo dell'auto c'era anche nazar lernatovic influencer da 94 mila follower e noto sul web come diamond trattino basso mgmt guidatore passeggero sono rimasti illesi e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente algero correttini foto instagram l'appello ragazzi dovete andare piano guarda che roba ragazzi poteva andare peggio ringraziando il cielo siamo salvi e stato un bell'incidente eccoci qui ambulanza polizia incidentino e soldino bello fratellino ha detto l'influencer ve la riporteremo nuova al più presto ha aggiunto rivolgendosi alla concessionaria che gli hanno leggato la jaguar 1727 w rld star ha lanciato un appello ai follower ragazzi sulle strade bagnate dovete andare piano sempre e comunque guardate i ragazzi di oggi cosa combina il rapper 1727 w rld star foto instagram non me la levano la patente in serata fratelli eri apparso sui social per fare mea culpa e per rispondere agli haters scusate per le mie bravate per quello che le volte faccio ha detto non me la levano la patente qual è la mia colpa ero ubriaco ho fatto qualche cosa no siete stati tutti a rimproverarmi a cercare il pelo nell'uovo ma nessuno che m'ha detto bravo per il tuo senso civico che ha messo il triangolo a 50 metà nessuno che algero correttini foto instagram la ex lo accusò di averla picchiata con una spra nel gennaio 2021 algero correttini fini in carcere con l'accusa di maltrattamenti lesioni personali aggravate ricettazione di un timbro medico detenzione illecita di sostanze stupefacenti e anabolizzanti simona vergaro sua ex convivente lo accusò di averla aggredita e picchiata selvaggiamente servendosi anche di una mazza di ferro